bentornati allora questo video lo pubblicherò tra qualche giorno oggi il 25 febbraio 2024 in verità in verità vi dico tenete d'occhio questo ragazzo emanuel czechnavorian che il nuovo direttore dell'orchestra sinfonica verdi di milano è stato da poco nominato ha fatto un paio di concerti con loro però solo da settembre assumerà come dire la carica in maniera stabile e quindi solo da settembre lo vedremo a milano o anche in altri insomma durante le turnie dell'orchestra all'opera con l'orchestra verdi perché vi dico di tenerlo d'occhio perché questo è un ragazzo che secondo me andrà molto molto lontano innanzitutto stupisce che alla guida di un'orchestra importante come l'orchestra verdi si è stato chiamato un ragazzo di 27 28 anni qualcosa del genere quindi non un direttore di consumata esperienza ma un esordiente possiamo dire e questa cosa non può che far piacere perché spesso questo è un mondo un po gerontofilo un mondo un po dominato dagli ultraenni ecco diciamo che questo non è assolutamente il suo caso poi io non so che dinamiche ci siano dietro questa questa nomina nel senso praticaccia e tanti anni di come dire di tanti anni in cui ho bazzicato questo ambiente mi hanno portato a sapere che le nomine spesso e volentieri sono accompagnate da ragioni extra musicali nel senso spesso e volentieri dietro la nomina una direzione artistica una direzione musicale a un direzione ospite insomma a varie a varie conformazioni di di designazione ci sono delle ragioni extra musicali magari un grosso sponsor che porta all'orchestra una quantità di soldi magari una spinta politica tante ragioni io non so se anche in questo caso ve ne sono mi illudo di pensare con quel minimo di ingenuità che può essermi ancora rimasta nella mia vecchia anima corrotta mi illudo di pensare dicevo che sarebbe bello se per una volta però le motivazioni fossero solo musicali e se si fosse visto in questo ragazzo veramente un musicista destinato a un fulgido fulgido futuro allora c'è che navorian cominciamo a dire che non è solo un direttore orchestra anzi se vogliamo è non è principalmente un direttore orchestra è un violinista anzi non è un violinista è un solista di violino e anche in un certo in un certo livello già con una fermata carriera internazionale alle spalle questa cosa non fa automaticamente di lui un bravo direttore farà di lui sicuramente un ottimo musicista questo si discute però non necessariamente fa di lui un un eccellente direttore io l'avevo visto dirigere in video sei o sette mesi fa prima che fosse nominato o quanto meno prima che fosse ufficializzata la sua disegnazione all'orchestra verdi in un paio di cose e devo dire insomma che mi aveva ben ben colpito e molto favorevolmente impressionato dopodiché pochi giorni fa ha fatto suo primo concetto la sua prima pubblicazione alla verdi e quando io mi sento a dire da diversi amici che ho che suonano la verdi questo ragazzo è veramente in gamba e anche il maestro Luca Santaniello che che ringrazio persona che io stimo in maniera adeguata al suo valore al suo valore musicale quando una persona di questo del valore e dell'esperienza e della bravura del maestro Santaniello mi dice guarda vito che questo ragazzo è in gamba io gli credo io gli credo non sono riuscito purtroppo ad andare a sentire il concerto ma sicuramente non mi perderò i prossimi concerti della verdi che farà partire a partire da settembre paradossalmente il fatto di essere un solista importante di violino potrebbe essere la principale causa che potrebbe ostacolargli la sua carriera di direttore perché probabilmente lo sapete sono veramente pochi i casi in cui un direttore orchestra è anche un affermato solista del suo strumento spesso e volentieri lo suona ci sono tanti tanti casi un ciung spesso e volentieri suona suona pianoforti informazioni cameristiche berstein ovviamente suona pianoforte molto molto spesso ma sempre in cose che dirigeva lui per esempio e comunque la maggior parte dei direttori mediamente sono pianisti il caso più importante che mi viene in mente di direttore violinista era mazel che spesso suonava il violino o incideva musiche suonate da lui col violino ma in una quantità non certo minimamente confrontabile con le volte che dirigeva l'orchestra per cui lui era un direttore che ogni tanto suonava il violino e ovviamente invece se Cechnavorian vorrà mantenere una delle due carriere difficilmente riuscirà a fare l'altra per una questione meramente di tempo perché ovviamente lo studio necessario per mantenere una carriera internazionale di uno strumento, qualunque strumento, non dico che non è compatibile ma è difficilmente compatibile con lo studio che ci vuole soprattutto per iniziare una carriera da direttore, mettere su un repertorio eccetera eccetera per cui insomma questo lo scopriremo solo con gli anni scopriremo negli anni a quale delle due carriere darà particolarmente peso anche Duda me lo sapete è violinista ma non è un solista di violino cioè capite insomma che suonare uno strumento è una cosa suonarlo bene un'altra e essere un solista affermato internazionale di quello strumento è un altro piano ancora, è veramente un next level per cui insomma vedremo quel tempo io credo però che se Ceknavoren ha accettato la direzione di un'orchestra sinfonica presumo che abbia intenzione di spingere particolarmente sulla sua carriera di direttore cosa che io e molti altri francamente auspichiamo perché ripeto anche se non l'ho mai visto in prova e spero veramente di poter rimediare prima possibile il feedback che mi è arrivato dagli orchestrali di un direttore innanzitutto molto preparato musicalmente molto in gamba anche mi diceva il maestro Santaniello con grande esperienza cioè diceva io mi è arrivato colui che so essere un importante solista di violino ci poteva stare che come direttore potesse avere anche il puntista meramente gestuale delle immaturità ecco delle cose dedicate delle cose dovute scusitamente alla scarsa esperienza che ha come direttore invece sia il puntista gestuale sia il puntista musicale ma soprattutto mi ha detto lui e anche altri altri orchestrai della Verdi una comunicatività fantastica con l'orchestra una capacità comunicativa fuori dal comune e beh sono già tre caratteristiche che non sono poca cosa per cui vi dico tenete d'occhio questo ragazzo segnatevi il nome e cominciate a seguirlo vi dico sempre per la correttezza che cerco sempre di mantenere non solo con voi in generale nella mia vita io non lo conosco non l'ho mai incontrato io non ho mai lavorato con l'orchestra Verdi l'anno prossimo avrò un progetto con l'orchestra Verdi nel quale però C'è Cannavorian non c'entra nulla perché è una cosa che abbiamo organizzato e preparato col precedente direttore quindi C'è Cannavorian col fatto che l'anno prossimo avrò un progetto con l'orchestra Verdi non c'entra nulla forse non lo sa neanche perché come sapete quando c'è il passaggio da un direttore all'altro comunque quello che il vecchio direttore ha messo in piedi generalmente si porta avanti e poi il nuovo direttore entra in corsa e poi dall'anno successivo farà la sua stagione farà le sue scelte musicali e così via per cui non la tiro troppo in lungo tenete d'occhio questo ragazzo segnatevi il suo nome trovate su YouTube qualche video soprattutto di sue esecuzioni come solista di violino molto più che come direttore dove ci sono ancora relativamente pochi video ma soprattutto se avete l'occasione da settembre se siete di Milano o dal zona di Milano o se lo beccate in tour da qualche parte andatelo a sentire e poi lasciatemi qui sotto magari nei commenti l'impressione che avete avuto perché secondo me questo è un ragazzo che va lontano ah lontano deve andare anche al canale quindi dovete iscrivervi naturalmente lo sapete presumo cliccando dove? sul l'apposito tasto iscriviti iscrivetevi al canale e se volete da qualche giorno potete anche abbonarvi ma insomma questo è una vostra scelta se volete dettagli li trovate o schiacciando il tasto abbonati oppure nella descrizione di questo video alla prossima grazie 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 grazie